Vertenza Gela ancora senza nessuna soluzione in vista. Con una nota inviata alla stampa CGL Cisle Will, congiuntamente alle segreterie delle federazioni dei metalmeccanici FIOM, FIM, Wilm, denunciano la latitanza del governo nazionale rispetto ai drammi occupazionali che Gela sta attraversando, ulteriormente appesantiti dal silenzio che caratterizza questa fase della vita del governo rispetto ad un tema specifico, cioè riempire di contenuti il decreto area di crisi complesse, tutte le misure derogatorie in grado di ammortizzare sotto il profilo occupazionale e quindi socio-economiche il malessere che di giorno in giorno investe i lavoratori. CGL Cisle Will si legge ancora nel documento, hanno la certezza che se c'è una reale volontà politica la vertenza Gela può essere risolta e la volontà politica dovrebbe vedere anche l'interesse dei tre deputati nazionali eletti in provincia di Caltanissetta, Cancelleri, Cardinale e Pagano, ai quali è stata indirizzata la lettera nella quale anche il Comune e la Regione chiedevano un sostegno economico per risollevare Gela da una situazione che più volte tra l'altro ha visto venir meno l'ordine pubblico. Leni scrivono ancora i segretari generali CGL Cisle Will, Giudice, Gallo e Castania a tutti i livelli ha il dovere di illustrare con più vigore, determinazione e chiarezza a tutte le imprese che fanno parte della sua lista fornitori che tra i compiti di ogni impresa c'è anche il ruolo sociale, motivo che ci induce ad un appello al buonsenso in un mondo che ha legittimamente goduto nell'ultimo trentennio di grandi commesse e che oggi dentro alla più grande crisi mondiale deve dimostrare di essere impresa. Il sindacato con tutte le categorie, seppur solo e con zero poteri per modificare le leggi attuali chiede ad alta voce alla politica e a tutti i partiti di intervenire per evitare la morte dell'industria del Sud. E intanto il 20 gennaio prossimo si fermeranno tutti i dipendenti del gruppo Eni presenti in città. Le sigle sindacali di Filchtem, Femca, Wiltec e UGL chimici aderiscono infatti allo sciopero nazionale indetto nelle scorse settimane. Gli impianti verranno messi in sicurezza. C'è il timore che il gruppo Eni voglia man mano di smettere, di iniziare proprio dalla raffineria di Contrada Piana del Signore. Questa volta però non si fermeranno soltanto gli operai della multinazionale ma verranno fermati anche processi produttivi dagli impianti di raffineria ai pozzi Enimed. Abbiamo già chiesto un incontro ai responsabili aziendali, spiega il segretario provinciale della Femca CISL Francesco Emiliani. Chiederemo l'attuazione degli assetti di sicurezza di tutti gli impianti in funzione. Giorno 20 gennaio infatti verranno fermati. Per questa ragione si pone l'esigenza di applicare tutti i protocolli di sicurezza. E così lo sciopero del 20 gennaio potrebbe essere soltanto la prima tappa di un percorso di mobilitazione più ampio. Dopo l'indotta attualmente decimato anche lavoratori del diretto di raffinerie e più in generale quelli del gruppo Eni attivi in città temono e non poco per il loro prossimo futuro occupazionale.